Si è conclusa con un pareggio quella che è stata una partita difficile per l'Italia contro la Spagna, finita 1-0 per la nazionale iberica. Dopo un primo tempo senza sorprese nel secondo, gli iberici passano al 55esimo con un autogol di Calafiori, che devia nella propria porta una respinta del portiere avversario. Nel gruppo B la Spagna sale così a 6 punti, dopo due vittorie classificandosi per gli ottavi a eliminazione diretta, mentre gli azzurri restano a 3. Chiudono Albania e Croazia a quota 1. La prossima partita dell'Italia contro la Croazia diventa ora cruciale per la permanenza degli azzurri nel torneo. Nel pomeriggio per il gruppo C invece le protagoniste sono state Slovenia e Serbia, attualmente ultima nel girone, che hanno pareggiato 1-1 dopo una partita combattuta all'ultimo respiro e un gol di Luka Jovic del Milan, che ha salvato i serbi al 95esimo minuto. Nello stesso gruppo sono quindi scesi in campo, Inghilterra e Danimarca. I britannici erano in vantaggio, ma al 34esimo minuto è arrivato il pareggio, inchiodando il risultato sull'1-1 fino al novantesimo.